DiP è nato il 25 giugno 2016 e ha da poco raggiunto il traguardo dei 10.000 iscritti. Un canale senza i propri iscritti esisterebbe solo in parte, perciò è doveroso ringraziarvi tutti. Vogliamo festeggiare questo traguardo insieme a voi? Con questo video diamo ufficialmente il via alla seconda edizione del Deep in the Contest. Per partecipare al contest dovrai fare tre cose. Scegliere uno dei video karaoke presenti nella playlist ufficiale del contest, di cui trovi il link in descrizione. Riprenderti con il tuo smartphone o con la tua webcam mentre canti per intero la canzone del video karaoke da te scelto e caricare il tuo video su YouTube inserendo il tag Deep10k all'interno del titolo, all'interno della descrizione e all'interno dei tags. Lo staff successivamente si occuperà di trovare i partecipanti ed inserirli all'interno di una lista che sarà presente nei commenti qui sotto. Verranno selezionati due vincitori, il partecipante che avrà fatto la miglior performance vincerà la maglietta ufficiale e inedita di Deep e il partecipante che avrà fatto più visualizzazioni vincerà un video karaoke a sua scelta che verrà successivamente pubblicato su Deep. La chiusura del contest avverrà il 13 luglio 2017. Buona fortuna a tutti i partecipanti!